Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo dotazioni invernali su gran parte delle strade della regione, l'elenco delle strade interessate sui nostri canali social. Per la canteristica ENA1 questa notte da mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Valdarno e Arezzo in direzione di Roma. La chiusura è necessaria per lavori di ripristino della segnaletica orizzontale. In alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno proseguire sulla viabilità ordinaria seguendo la segnaletica indicante Roma e rientrare ad Arezzo. In FIPILI per lavori di risanamento acustico restringimento di carreggiata nel tratto dal chilometro 0 al chilometro 2 e 2 nel comune di Firenze. Il provvedimento è in vigore fino al 30 aprile. Oversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie. Grazie.